Allenamento mattutino per la formazione di Andrea Stramaccioni che si prepara al match di domenica contro il Torino. Concentrazione massimale per la squadra bianconera che non vuole fallire l'appuntamento contro il Toro. Due situazioni diametralmente opposte a livello di morale per le due compagini. Da una parte c'è il Torino reduce da ben 12 risultati utili di fila. Sull'altro versante invece c'è un Udinese reduce dalla sconfitta con il Cesena. Un Udinese che in casa non vince dal 26 ottobre. Di conseguenza l'obbligo è quello di tornare a sorridere proprio tra le muramiche e tornare a quel successo che manca da tanto troppo tempo. Un allenamento basato molto sulla tattica, quello della formazione friulana, visto che oggi è l'ultima seduta prima della rifinitura che ci sarà nella giornata di domani e poi subito gli occhi puntati sulla sfida contro i Granata. Da valutare le condizioni di Thomas Ayrton, l'unico dubbio per quanto concerne l'allenatore friulano. Per il resto invece tutti a disposizione, eccezione fatta per il lungo degente Maurizio Domizzi. Un Udinese che prova dunque ad uscire da un momento negativo di classifica e soprattutto di rendimento e risultati. Visto e considerato che l'ultima sconfitta è arrivata sul campo della penultima della classe. Il Cesena è in casa, c'è l'obbligo di tornare al successo. Le motivazioni sono tantissime per un Udinese che continua comunque nel ritiro settimanale e che si prepara nel migliore dei modi proprio a questa sfida. Concentrazione anche da parte del tecnico Andrea Stamaccioni che sta curando naturalmente ogni singolo particolare, ogni singolo dettaglio perché questa è una sfida da non fallire. Sappiamo della difficoltà del match e della difficoltà anche nell'affrontare un Torino molto carico, un Torino guidato anche dagli ex Quagliarella e Padelli, oltre che da un altro ex che è il tecnico Giampiero Ventura, per lui soltanto una parentesi qui in Friuli. Un Torino che ha gli stessi punti dell'anno scorso, 36, seppur senza cerci ed immobili, tra l'altro galvanizzato anche dalla qualificazione al turno successivo in Europa League. L'Udinese conterà anche sull'apporto dei propri tifosi perché in questo momento la spinta della tifoseria è importante. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, tutti verso il ritorno ad un risultato positivo. I presupposti ci sono perché comunque in settimana l'Udinese ha lavorato molto bene, molto concentrata, con grinta, con convinzione e determinazione e consapevolezza soprattutto nei propri mezzi. Un Udinese molto carica che comunque vuole far tornare il sorriso all'ambiente, vuole tornare ad un risultato importante, vuole tornare a quella vittoria che al Friuli manca da tanto tempo, anche se il prossimo avversario è un Torino carico a mille.